Per affrontare i problemi di natura psicologica esistono diverse strade. Due delle più importanti sono psicoterapia e psicoanalisi. Scopri le differenze tra questi due approcci e capisci qual è la scelta migliore per te. Oggi vi presento 10 differenze importanti tra la psicoterapia e la psicanalisi. Psicoterapia e psicanalisi sono due approcci distinti alla cura della salute mentale. Prima differenza agli obiettivi. La psicoterapia si concentra sulla risoluzione dei problemi attuali del paziente, quelli che vive adesso. Mentre la psicanalisi si concentra sulla comprensione e sulla risoluzione dei problemi ormai divenuti inconsci degli analizzanti, che condizionano la situazione attuale. Sono legati alla storia, alle relazioni, eccetera. Seconda differenza la durata. La psicoterapia di solito è a breve termine. Mentre la psicanalisi richiede un impegno più concentrato e a lungo termine. Terza differenza importante. L'approccio terapeutico. Le psicoterapie, perché sono tante e sono diverse tra loro, si basano su una serie di tecniche e metodi che sono molto diversi tra di loro, ma comunque sempre specifici. Sono sempre tecniche psicologiche, ma hanno parecchie differenze al loro interno. La psicanalisi, invece, sostanzialmente è una e ha un approccio che è basato su una tecnica molto semplice, cioè l'interpretazione dei sogni, dei lapsus e di tutto il materiale che il coscio può produrre. Usa il metodo delle libere associazioni. La tecnica prevede semplicemente un divano e una poltrona. Il quarto punto importante riguarda il ruolo dello psicoterapeuta o dello psicanalista. Nella psicoterapia di solito il terapeuta assume un ruolo abbastanza attivo, a volte anche direttivo, cioè dà delle indicazioni al paziente su quello che deve fare per curarsi. Gli prescrive dunque una cura. Nella psicanalisi, invece, l'analista ha un ruolo più passivo. Guida il paziente nel suo lavoro di autoesplorazione. Se il video che stai guardando ti interessa e ti interessano i suoi aggiornamenti, ti raccomando di iscriverti al canale, così saprai sempre tutte le ultime novità che escono in questo campo della psicoterapia, della psicanalisi, della psicologia in generale. La quinta differenza fondamentale è sui costi. La psicanalisi può essere più costosa perché ha una frequenza maggiore nelle sue sedute e dura più tempo. Tuttavia ci sono anche psicanalisti che hanno un orario molto accessibile. Il sesto punto importante è il focus di lavoro. La psicoterapia si concentra sui sintomi che il paziente vuole risolvere. Supponiamo l'attacco di panico. La psicanalisi, invece, guarda la persona nel suo insieme, compresa la storia, la personalità, le sue relazioni. La settima differenza riguarda la diagnosi. Le psicoterapie generalmente partono da una diagnosi e quindi possono anche, non sempre, ma spesso usano dei test per approfondire una diagnosi in specifica. La psicanalisi, invece, cerca la diagnosi. Durante il lavoro, lo psicanalista aiuta, analizzando, ad individuare qual è la sua diagnosi personale. Ad un certo punto del percorso sarà il paziente stesso a definire qual è la sua diagnosi. Questo significa che mentre per le psicoterapie la diagnosi è qualcosa di oggettivo e uguale per tutti, per la psicanalisi la diagnosi è soggettiva. Il malessere di un soggetto potrebbe non essere un problema per un'altra persona. Ma se quel soggetto vive male oggi, non importa se per tutti gli altri quella cosa va bene. Il suo vissuto diventa fondamentale. Ottava differenza, le professioni. Psicoterapeuta e psicanalista sono due professionisti diversi. Lo psicoterapeuta si è formato facendo una delle tante scuole che esistono in Italia dopo essersi laureato in psicologia. Lo psicanalista potrebbe, invece, non essere nemmeno uno psicologo. La sua caratteristica è quella di essere uno psicanalista la cui professione non è catalogabile tra gli psicologi. Non a differenza, le formazioni sono molto diverse. Come già dicevo, lo psicoterapeuta ha fatto una scuola di formazione, quindi ha studiato sui libri per tanti anni. Lo psicanalista, invece, si è formato andando in analisi. Quindi la sua formazione è sul campo. Ha fatto un'analisi personale. Troverete dei video in cui ne parlo espressamente come si forma un analista. Andate a cercarlo se volete. Decima e ultima differenza, la scientificità. Oggi vanno di moda le terapie basate sull'evidenza scientifica. Sono le numerose terapie che sono supportate dagli studi scientifici che dimostrano la loro efficacia. La psicanalisi, invece, si basa sull'evidenza soggettiva. Parte da un punto di vista completamente diverso, ovvero sia il benessere individuale. Per concludere, è importante notare che la scelta tra psicoterapia e psicanalisi dipende dalle esigenze individuali e dalla natura del disturbo che si vuole affrontare. Se il video di oggi ti è servito, iscriviti al canale, così rimani sempre aggiornato su tutte le novità che di volta in volta introdurrò. Pensaci! Pensaci!